Siamo appena partiti e siamo in autostrada, ancora 150 km e sono le 9.57, non so se si vede. Grazie per la visione! Oggi secondo giorno, non ho avuto il modo di vloggare tantissimo ieri, però comunque vi ho fatto vedere più o meno come si è svolta la giornata. Magari adesso vi faccio vedere più o meno la casetta in cui sono. Oggi non lo so, oggi teoricamente dovremmo andare a visitare un posto, Andrea mi porterà in questo posto molto fico. E niente, vedremo. Quindi Andrea, dove stiamo andando? Alpecrespin. Quanto è che è? Non lo so, sarà sui 2000. 2000 qualcosa. Sono arrivati, c'è un laghettino molto zen. Qua è la vista. Qua è la vista. Adesso torniamo alla macchina e andiamo a un parchetto e niente, facendo riprese magari col drone, se non ci arrestano. Qua è la vista. Qua è la vista. Che l'egoverno. Qua è la vista. Qua è la vista. Qua è la vista. Grazie a tutti.